allora? come facciamo questa zampina? eh? cosa facciamo? come hai fatto? eh? e mo? dai ti aiuto dai vieni vieni che ti aiuto dai dai che ti aiuto te la libero questa va bene? dai dai come hai fatto a metterla dentro? come hai fatto? eh? tira su dai ti aiuto su per te? aia! sai che facciamo? te lo slego direttamente per te tutto a posto ho fatto bene Riano ecco vieni che si libera vieni ecco ci facciamo il bagnetto ok